Gio Barbieri, oggi siamo qui per presentare un concerto già programmato, ma che ha cambiato nel corso di un appartamento. Di cosa si tratta? In realtà si trattava inizialmente di un concerto di chiusura di un tour, che è il tour del mio ultimo album che si chiama Respiro, che è iniziato praticamente un anno fa qui da Napoli, si sarebbe dovuto semplicemente chiudere qui a Napoli, ma che poi gli eventi hanno spinto a trasformarsi in un concerto in favore della città della scienza, perché nel mio piccolissimo, assolutamente un gesto minuscolo, per quello che mi è possibile ed evolverò buona parte dell'incasso alla ricostruzione della città della scienza. Ma è più un gesto per testimoniare che ci sono migliaia di napoletani che vogliono una città più bella. Ci sarà anche una Gessart? Sì, il caso vuole che con me ci sarà Fabrizio Bosso, un grande amico e un successista infinito che non ha bisogno di troppe parole di presentazione e con lui cercheremo di star bene, di abbracciarci. insomma, perché in questo momento forse... Oggi hai dato anche un'anticipazione, no? Che riguarda Chet Baker. Sì, perché il 13 maggio asce un nuovo album che è dedicato alla 25ennale della scomparsa di Chet Baker, un lavoro d'amore, perché io sono un appassionato di Baker, quindi mi prendo una pausa dalle mie canzoni, quasi del tutto, perché poi c'è un brano, un inedito in questo nuovo album. In inglese? In inglese, dedicato appunto a Chet. Allora, appuntamento a giovedì prossimo. A giovedì. Allora, appuntamento a giovedì prossimo.